Torna ad Arezzo l'iniziativa Meno Alti dei Pinguini, un festival diffuso nel centro storico della città dedicato al mondo 0-6 anni, che quest'anno torna in presenza dopo la versione ridotta della scorsa edizione con più di 16 location, 11 laboratori, 4 speech e 4 spettacoli teatrali, 2 i convegni e tante altre iniziative. Un programma denso di appuntamenti rivolto ai professionisti del mondo dell'infanzia. È un'iniziativa nazionale che torna, ritorna e si rafforza alla sua quarta edizione e di fatto ricomincia quel percorso di Arezzo che è città che riflette sui servizi oltre a derogarli con grande qualità. Quindi ci ricostruiamo con una città di riferimento per le politiche educative. Tutto si svolge all'interno del centro città con più di una dozzina di laboratori sia per bambini che per genitori che per operatori del settore con un pit stop al centro della città per poter allattare e cambiare il pannolino al bambino con una mostra fotografa dedicata allo spettacolo teatro alla finestra che ha rappresentato e caratterizzato questi due anni di pandemia torna il festival con un'attenzione particolare al rapporto appunto tra digitale e naturale all'interno della fascia 06 quindi dei bambini più piccoli. Ci piace segnalare soprattutto il convegno che faremo sulle nuove linee dello 06 fatte dal MIUR sarà un momento importante proprio anche per chi è del settore per avere una formazione specifica ci saranno presenti sia a livello ministeriale ci sarà Puglisi che a livello regionale ci sarà l'assessore Nardini e anche l'assessore vice sindaco Lucia Tanti in modo tale che cercheremo di capire anche come si andranno poi a definire queste linee guida sia in città che nella nostra regione.